Sante Maria, Ave di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amico. Più forte! Ave Maria, piena di grazia, Signore. Più forte! La parola, basta una sola parola per risvegliarla. Non si sopra! Non si sove! Non si sopra! Il senatore Beffardi. Domani tutti a Roma, è un ordine del Presidente, non puoi mancare. Ma che devo fare a Roma? Ma com'è che devi fare? Votare! Come voterai? Non so. Come non lo sai? È una questione di vita o di morte. Ciao papà. Non si sopra! La Costituzione non si sopra! Liberatela! Mi offri la colazione? Mi sarò disintossicata 20 volte. Non c'è cura. Se vedi uno che si butta dalla finestra, cerchi di impedirtelo. Non ti chiedi se è giusto o sbagliato, lo fai e basta! La vita è una condanna a morte e non c'è tempo da perdere. Tutto ciò che voglio è che cosa si rivela. Io non posso tradire la mia coscienza, perciò voterò contro questa legge. La sofferenza non nobilita l'uomo, lo umilia, lo spezza. Liberatela! Non è tutto! Ecco! Grazie.